abbiamo un listino con 11 prodotti commercializzati sviluppati insieme al centro di ricerca della società italiana di fitoterapia inserito nell'università degli studi di siena con a capo il professor marco biagi eccellenza della fitoterapia in italia con lui abbiamo sviluppato una serie di prodotti che vanno in area cardiovascolare urologica ginecologica e con prodotti che hanno un'indicazione delle malattie disturbi del sonno e energizzanti siamo entrati in tls dal gennaio di quest'anno ma farmacina azienda che è nata circa quattro anni fa tls abbiamo chiesto l'affiliazione in tls perché crediamo tantissimo nella sinergia delle varie aziende possono esserci all'interno dell'istituzione crediamo e così come riusciamo a sviluppare sinergia con l'università di siena possiamo riuscire a farlo anche all'interno dell'incubatore tls e poter sviluppare le nostre potenzialità e perché no offrire il nostro contributo il nostro aiuto la nostra sinergia ad altre aziende all'interno dei tls Sì Grazie a tutti.